In replica alla nota del gruppo consigliare paternese di Diventerà Bellissima, giunta ieri in redazione riguardo la bomba ecologica nella collina storica, non si è fatta attendere la replica del primo cittadino paternese Nino Naso, raggiunto dai nostri microfoni. Ho visto in più note parlare della collina storica con immagini false che ritraggono rifiuti in contrada Ciappe Bianche, che è una contrada di responsabilità e quindi della provincia, SP, si chiama SP 138, che non c'entra niente con la collina storica. Sento parlare di scempio, sento parlare di bombe ecologiche sulla collina storica, veramente questo non è un modo di fare politica, questo è un modo di cercare di colpire un sindaco che si spende 24 ore al giorno per la propria città e danneggiando la città. E questo non lo posso permettere, quindi io vi ringrazio per questa opportunità, ma è giusto dire le cose come stanno, veramente, stiamo volando basso. Poi ho letto anche che si parlava che l'ARPA ha ordinato al comune o al sindaco dire ripulire, l'ARPA non ha ordinato un bel niente, l'ARPA non ha competenze, c'è la lettera, è stato scritto ed è evidenziato, parla di legge. Quindi se la competenza è del comune, interviene il comune, se la competenza è della provincia, interviene la provincia. Noi abbiamo sollecitato più volte la provincia ad intervenire, perché veramente lì incontrata a Ceppe Bianche, parliamo, SP 138, ci sono grossi problemi. E più volte l'abbiamo sollecitato, una volta la provincia con una propria ordinanza l'ha chiusa, poi è stata riaperta e quindi la gente lì forse ha continuato a buttare rifiuti, quindi si deve lì intervenire. Io invece invito questi consiglieri comunali, che hanno tutta questa voglia di collaborare con la città, di aiutare il comune e spingere verso la provincia, visto che hanno anche riferimenti importanti a livello regionale, per far sì che si possa intervenire e dare una soluzione a un problema che è veramente un problema per i cittadini. La collina storica è regolarmente pulita e ringraziante Dio scerbata.